E' il nostro auspicio e soprattutto ci auguriamo che Renzi tenga conto del fatto che governa con noi e che i voti dei moderati che uniti a Forza Italia superano i 240 grandi elettori sono fondamentali per una scelta di grandissimo spessore istituzionale ma anche per avere finalmente un presidente che rappresenti la bandiera dell'Italia e non quella del Partito Democratico.